Amici miei, in Italia sono le 6 del pomeriggio, ma qui è l'una e io inizio ad avere una certa fame. Tutti intorno a me, sono sulla Sixth Avenue, potete notare questi grattacieli meravigliosi, ma New York è tutto un grattacielo, cioè voi passerete tutta la vostra giornata con la testa rivolta in alto a vedere i grattacieli, anche perché di monumenti e di storia ce n'èbbe poco qui, New York è una città comunque abbastanza giovane, ma ritorniamo a noi, io inizio ad aver fame e secondo voi posso perdermi l'occasione di mangiare un hot dog, non si può, andiamo Hi, 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 hot dog, hot dog, how much? 3 dollari, 3 dollari, i grandissimi dollari americani, ce l'abbiamo, vediamo un po', l'hot dog, la preparazione, maionese, mostard, I don't like mostard, ketchup e maionese, it's ok for me, è il famoso hot dog, what's America? Thanks my friend, thank you, thank you, amici miei, ce voleva, ce voleva. Iscriviti al nostro canale